in area di rigore i giocatori del Torino a innescare questo passaggio filtrante tra le due righe bruttissimo scontro tra Inico e Murgia il giocatore, c'è il cartellino giallo per il difensore del Torino colpito con una ginocchiata in pieno petto rivedere l'azione dello scontro è stato veramente pesante non si è fermato